hanno arrestato pavel duro che è il fondatore di telegram ora quello che sta succedendo online per brevità è che si sono divisi un po tutti tra quelli che dicono no libertà di espressioni se arrestate lui allora dovete arrestare anche quello di facebook quello di twitter quello di corpoli e altri che invece dicono no le cose stanno diversamente e come possono essere diverse da così allora brevemente duro è sempre stato comunque un giocatore libero se n'è andato dalla russia pur essendo russo di origine perché è sempre stato non è mai voluto sottostare al regime alla censura eccetera ha sempre voluto che telegram fosse un luogo libero dove si poteva dove ci si possa esprimere liberamente però la libertà di espressione ok con dare stanze a truffatori fili e altri tipi di come dire di gravi reati venditori ok c'entra sono due cose separate certo la piattaforma il principio è di base comune che quando non fai un prodotto editoriale cioè non scegli tu i contenuti ma i contenuti ce li mettono gli altri tu non sei responsabile di quel mediamente in generale di quello che viene pubblicato sulla piattaforma ma purché tu in caso di segnalazione lo rimuova in caso di un reato in cui un giudice ti chiede del di avere accesso a quei contenuti tu glieli dia ecco sono questi punti cioè di che fanno la differenza tra lui e altre piattaforme lui e altri come lui cosa vuol dire che non è uguale a arrestate anche mark zuckerberg perché mark zuckerberg quando la polizia gli chiede dati informazioni fornisce subito tutto immediatamente ci sono delle procedure automatiche quasi ormai e così gli altri c'è chi non lo fa e lui è uno di quelli che non lo fa c'è il tema delle chat crittate ma è minore la maggior parte delle delle stanze sono libere cioè volevo in poche parole il venditore di su telegram è facile da beccare se lui fornisce i dati alle forze dell'ordine il truffatore e la è pieno di truffatori perché alle non è colpa del mezzo ovviamente però è un mezzo che attrae quel tipo di persone perché è libero ma la libertà finisce dove inizia quella degli altri ci ricordiamo questo principio e finisce la sua libertà dal momento in cui è quella del truffatore lui va a toccare la mia cioè ci truffa chiaro questo è quello che sta succedendo quindi il nostro il nostro il nostro fondatore CEO di telegram deve decidere poi certo dietro ci possono essere dietrologie politiche dove aveva deciso comunque di collaborare in questo modo si vede forzato a farlo dalla giustizia perché addirittura è stato arrestato e quindi nessuno lo uccide col po perché in fondo non è colpa sua però è tutto da vedere ma ecco questa importante divisione e secondo me era da evidenziare da farlo subito sulla libertà di espressione very good e la libertà di offrire stanze che diventano palazzi che diventano grattacieli della truffa perché è dove chiudi e la forza dell'ordine può sentrare anche che non